I tre anni protagonisti sono undici al via. Princess of Brown numero dieci, completamente sferrata, l'unica variazione relativa alle ferrature. Pissarro Ferm contro Pivot Griff, le hit motive al totalizzatore. Si ritrae Parisienne MN, parte piano per Flying. Stacco della macchina, l'errore di Pissarro Ferm. Al comando si porta Pepita Bippa che scavalca File Chanel HBD. Poi Pergil Gemon SM Parisienne MN, a tabellone Pissarro Ferm dopo 200 metri in 14. E Pepita al comando a metà della prima curva, tira subito il rem in barca. Alle sue spalle File Chanel HBD precede Pergil Gemon SM. Per corsia esterna inizia la risalita a Pivot Griff. 37, primi 4, 16 e mezzo impiegata. Pepita che controlla la situazione per Gil Gemon SM. Anticipa Pivot Griff e va a profilarsi sulla leader all'altezza dei primi 600 metri in 46,8. Pepita si difende Pergil Gemon che si adegua al suo esterno. Poi File Chanel HBD e Parisienne MN per linee interne a largo Pivot Griff. Quindi Princess of Brown sbaglia per Flying dopo mezzo milio in poco più di 1,2. Pepita in vantaggio per Gil Gemon SM che la accompagna. Poi File Chanel HBD e Pivot Griff. In terza parola esterna Princess of Brown. Poi di dentro Parisienne MN 18,8 il chilometro. Siva ancora in mano. Pepita per Gil Gemon. Pivot Griff che si affaccia. Poi File Chanel HBD. Il ritmo che gradualmente tende ad aumentare con la frazione di fronte in 14,8. Pepita Bip per Gil Gemon e Pivot Griff. Si aggiunge anche Princess of Brown. Poi Falce nell'HBD quando si è a 2,50 la conclusione Princess of Brown. E Pivot Griff che si lancia all'inseguimento ma Pepita Bip accelera. Poi a tiro c'è anche il primo match a centro della conclusione. Princess of Brown che attacca Pepita Bip che si getta di galoppo. Vince Princess of Brown per il raddoppio di Marcello Mangiafane. Mentre per il secondo primo match a Pariglia. Pivot Griff. 2,3,5. 29,8 la chiusa. 1,17,2. La media al chilometro. Emerge di spunto il numero 10 Princess of Brown con Marcello Mangiafane. 4,13. Alla totalizzatore nazionale sbaglia invece Pepita Bip che lascia per il secondo. In lotta improbabile fotografia. Primo match a largo e Pivot Griff di dentro. Questa è un pari sau. Questa è un pari sale. Mi ha infないainti.